Marco Carlo Magni, proprio un minuto di saluti. Io ho un ringraziamento sincero a tutti e a tutti i partecipanti per gli interessantissimi interventi e qui dico noi abbiamo aperto un cantiere che come diceva prima Roberto durerà cinque anni proprio sulle trasformazioni del mondo del lavoro. Con il Presidente Rizzetto c'è una forte sinergia e io l'apprezzamento, estremamente apprezzamento anche per come la Commissione lavoro e anche per quella curiosità, quella umiltà, quel dialogo con tutte e che dovrebbe essere quello che ne ospichiamo, bipartisan, per arrivare ai problemi. Ecco noi dobbiamo renderci conto, l'ha detto poco fa il direttore dell'Agid, che noi siamo in un sistema di globalizzazione, noi non possiamo consentirci più di avere un sistema feudale, egosauri che continuano a mantenere il si è sempre fatto così, perché altrimenti perdiamo competitività. Ebbene, veramente per tagliare il tutto, nel grande ringraziamento la pubblica amministrazione, i lavoratori della pubblica amministrazione, i dirigenti, ci sono, vogliono cambiare e qui chiediamo veramente al Governo, ma chiediamo prima di tutto al Parlamento, perché l'ottimo lavoro anche di ascolto della Commissione lavoro, riteniamo che si debba fare, si possa fare, si possa imporre quel discorso della formazione continua, a partire dai manager delle strutture pubbliche, per dimostrare se abbiano competenze per gestire una pubblica amministrazione che deve essere al servizio dei cittadini, delle imprese, delle famiglie. Quella visione integrata, quella grande visione filosofica che manca molto spesso nella politica, la visione integrata che poi attanaglia tutto, la mancanza di questa visione non ci consente invece di andare avanti. La pubblica amministrazione c'è, noi ci siamo e continueremo a discutere con tutti il miglior rapporto pubblico-privato per portare e per dare le eccellenze e per segnalare anche dove si possano realizzare delle cose e come possiamo farle concretamente, non più in fumose articolazioni. Grazie davvero, grazie a tutti per essere stati. Faccio solo una piccola riflessione a chiusura di tutto, è che noi siamo sistemi biologici, siamo fatti di sangue, noi parliamo di un sistema digitale, intelligenza artificiale, mentre noi eravamo qui, siamo cambiati poco, forse c'è cresciuto un capello di un microcentimetro. Rispetto a due ore fa l'intelligenza artificiale è già andata avanti, è questo, le regole, il tema delle regole. Grazie a tutti, buon pranzo! Arrivederci!